Creare una rete sociale che permetta il benessere di ogni diversamente abile organizzandosi per affermare i diritti dei soggetti disabili. Ci sono ancora troppi problemi non risolti relativi alla disabilità. Vogliamo essere sindacato propositivo e non conflittuale che interagisce con il mondo del volontariato, delle istituzioni, del lavoro e per far conoscere le nostre idee di una società più solidale. Lo dice Natale Salucci, segretario provinciale di sfida e il sindacato Famiglie Italiani di Versabilità che oggi ha tenuto l'incontro all'Hotel Sireno. Noi abbiamo delle leggi all'avanguardia per quanto riguarda le leggi nazionali però queste non vengono applicate e neanche rispettate. Allora è importante che si crea un movimento trasversale di tutte le associazioni e di tutte le persone e delle famiglie, disabile e nonne perché è un concetto di civiltà quello di migliorare i servizi nella nostra città anche perché la nostra città riscontra un numero di disabili numeroso rispetto a tutte le altre città, però come servizi è ancora carente. È importante che vengano attenzionati l'aspetto sanitario, quindi la riabilitazione. Ci sono molte liste d'attesa e quindi un bambino non può aspettare tanto tempo. Quindi è importante la prevenzione e l'intervento precoce. È importante la scuola, è importante che a scuola non vengano perse ore per trasportare i ragazzi da un posto all'altro, dalla riabilitazione o altri servizi. È importante che i ragazzi vivano un tempo libero perché hanno diritto al gioco, al cinema, a divertirsi. È importante che i ragazzi che poi diventano adulti hanno le possibilità di lavorare. È importante un pieno inserimento nel tessuto sociale. E qual è l'appello che lei lancia oggi all'amministrazione comunale? Beh, l'appello all'amministrazione comunale è quello di fare una vera rivoluzione politica e culturale soprattutto. Quello di ascoltare gli ultimi. Noi rappresentiamo gli ultimi, ma gli ultimi hanno anche delle capacità, delle abilità, come nel nostro territorio abbiamo dimostrato in diversi modi. E ci sono delle persone pronti a mettersi in gioco. Quindi vogliamo metterci in gioco assieme all'amministrazione comunale e anche quella regionale. Perché no? Grazie mille. Grazie a tutti.